Viaggi della speranza, carenza di personale, camici bianchi che lasciano la Calabria per andare a lavorare all'estero. Nel report sulla sanità presentato dalla Villa Catanzaro, le emergenze del comparto peggiorato dopo 14 anni di commissariamento, la chiusura di 18 ospedali, il blocco del turnover del personale medico e sanitario, la crescita dell'immigrazione sanitaria che in questi anni ha sforato la soglia dei 200 milioni di euro, e poi la carenza di medici, mancano quelli di famiglia, in Calabria nel 2026 saranno 135 e meno, la stessa carenza di professionisti si riscontra anche negli ospedali calabresi, sul territorio regionale ne mancano 2.500 e sono 450 le richieste di trasferimento all'estero, questi alcuni dei dati contenuti nel report ma nel dossier anche proposte. Chiediamo il rinnovo dei contratti, bisogna valorizzare e tutelare il personale medico, ma anche il personale sanitario. Abbiamo assistito negli ultimi 10 anni ad una perdita importante, parliamo del 15,4% dei medici che sono andati verso il nord e verso l'estero, del 6,7% del personale infermieristico. Bisogna quindi puntare velocemente sul rinnovo contrattuale, sulla detassazione del rinnovo contrattuale. Dati preoccupanti anche sulle liste d'attese per le aggressioni e i danni di medici e personale sanitario. Nell'ultimo anno abbiamo registrato 39 aggressioni da parte di pazienti o di parenti di pazienti, perché abbiamo dei medici che purtroppo è come se lavorassero sempre in trincea, non solo valorizzati ma anche molto poco tutelati. Al Governo nazionale il sindacato chiede un impegno sul servizio sanitario e per la Calabria in particolare si chiedono maggiori investimenti. Una stragione straordinaria dunque di assunzioni. In Calabria comunque ci sono dei fondi, appena la Regione approverà questi fabbisogni è necessario assumere migliaia di operatori. Ci sono in questo momento precari che attendono la stabilizzazione, ci sono concorsi già espletati come quelli relativi per esempio agli autisti del 118. Purtroppo abbiamo medici gettonisti che costano oltre 1000 euro al giorno. Bisogna cambiare le regole del mercato.